Buongiorno a tutti, Alessandro Fontana, County Manager di Termaglio Italia. Oggi vorremmo dare qualche consiglio per l'ambito manifatturiero. Di per sé il manifatturiero trasforma una materia in un prodotto. Questo processo comporta l'utilizzo di macchinari. Ormai nel 2024 questi macchinari sono sempre più connessi, sono sempre più gestibili. Questi macchinari lavorano e vengono controllati dagli operatori. Quindi è importante sicuramente l'aspetto formativo di queste persone che utilizzeranno macchinari connessi al mondo IT. C'è una congiunzione dal mondo IT e il mondo IT. Quindi è importante lavorare su dei processi, su delle procedure, sulla governance dell'azienda e applicare tecnologie che possano mettere in sicurezza, segmentare e controllare tutto il processo di supply chain delle aziende.